destra 4 lunga vai la ringhiera chiude 2 tieni 60 vista alla pianta sinistra 4 30 la ringhiera chiude 2 50 sinistra 2 gira apre 3 continua sinistra 3 40 e attenzione alle piante destra 2 destra 2 20 sinistra 5 30 destra 4 per sinistra 4 no attenzione e sinistra 4 si 30 al muro destra 2 gira no attenzione interno 40 sinistra e destra 5 lunga al file muro chiude 4 si tieni 20 sinistra 5 40 sinistra 5 tieni sudosso 50 sinistra 5 30 sinistra 3 chiude 2 3 chiude 2 10 destra 3 lunga alla pianta chiude 2 tieni 20 sinistra 5 20 sinistra 5 vai 50 sinistri al palo destra 5 vai 40 alla casa accendo destro 20 dosso in destra 5 30 alla pianta sinistra 5 50 sinistra 5 lunga lunga 60 in trascicana sinistra destra 5 lunga 70 al palo non vedi sinistra 4 lunga gira attenzione allo 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 att